Un giorno una donna scrisse a suor Lucia di Fatima che non riusciva a dire il rosario perché lo lasciava all'ultimo momento prima di andare a dormire e quindi si addormentava. Suor Lucia gli risponde figlia mia il rosario tu lo devi recitare non all'ultimo momento della tua giornata quando sei stanca e vai a riposare non ce la fai e ti addormenti ma lo devi recitare quando sei ben sveglia. È la primizia che il Signore vuole da te metterlo al primo posto ma se ci sono cristiani che dicono un Padre nostro e un Ave Maria immaginiamo se vanno a dire il rosario. In questo mese di ottobre dedicato alla Madonna del rosario e noi sappiamo l'importanza che la Madonna ha dato al rosario. San Pio l'importanza che ha dato al rosario lo ha chiamato la mia arma, un'arma potente. Fratelli miei, prendiamo coscienza. Questa domenica il Signore ci richiama tutti a una preghiera costante e continua. Sia lodato Gesù Cristo.